Senti Alessia, come va con tuo marito? Molto bene, è dolcissimo Ma vero? Mh, tantissimo Ma come fai? Ho un segreto io Che il mio con me è proprio ruzzo Immagino un animale Dai, dimmi il tuo segreto, qual è? La sera, quando vai a letto, ti metti una cosa addosso molto, molto sexy E poi, quando arriva lui, tu gli dirai che ti sembro, e lui ti dirà ovviamente, un fiorellino Da vero? Sì Mh, ci provo proprio stasera Provo, provo Grazie, grazie del consiglio Amo, che te paro? Prende il culo, che motoro rompo Grazie a tutti Grazie a tutti